E' passato del tempo. Mio padre è morto. Giovanna è morta. Davide è a modo suo un felice ragazzo. Quanto a mia madre, gli anni sono passati anche per lei, si capisce? Ma anche con questo è rimasta pur sempre la più cara compagna del mondo e non riesco proprio a vedere chi possa starle vicino. L'ultima volta che l'ho vista fu due mesi fa, nella nostra casa di campagna, qualche tempo prima che ci decidessimo a venderla. Se non hai terrore di una giornata da vecchi, vi diceva nel suo breve biglietto, datti pena di ricordarti che a 26 chilometri scarsi dalla tua pensione di studente c'è ancora la casa tua e di tua madre, casomai tu te ne fossi scordato in questi anni. Vengo però ad avvertirti che il convento non potrà passare granché. E se troverai modo di rallegrarti lo stesso di una giornata del genere, allora, il mio povero caro, sarò proprio costretta a concludere che il tuo lunario è di tutta quaresima, né più né meno che il mio. Questo era davvero il suo stile. Così presi il treno e nel tardo pomeriggio ero là. Dalla finestra aperta si vedevano alberi e siepi color ruggine, le foglie sparse ai margini dei fossi e più in là i campi neri, arati all'ora all'ora. Un merlo volava grossamente fra i filari spogli, la nebbia cominciava a salire e di tanto in tanto colpi di fucile venivano su dalla valle. I contadini erano da due giorni in isciopero e si scorzevano a gruppi lungo i crocicchi e le siepi. A un certo punto, mentre aspettavo nel corridoio, l'uscio si aprì e comparve mia madre in atto di salutare una signora un poco più anziana di lei. La signora appariva triste, di quella particolare tristezza di chi ha appena finito di raccontare un suo recente dolore a chi l'ha conosciuto quando non l'aveva e non era neppure immaginabile che un giorno potesse provarlo. Mia madre, passandomi vicino, abbassò subito gli occhi per non dovermi vedere. Giunte alle vetrate, parlarono ancora un minuto e se ne stettero un altro in silenzio e poi si baciarono e la vecchia si diresse al cancello. Mia madre fu di colpo da me. «Ah, povero caro, quanto debbo averti fatto aspettare!» si scusò graziosamente disperata. Era un giovane sottotenente, alto, bellissimo, e rimasto cieco in Africa. «Ah, una brutta guerra laggiù», accennai un po' vagamente, a disagio. «Per questo ho finto di non vederti», spiegò. «Lei ti avrebbe subito riconosciuto, e questo io non lo volevo. Ma è persino spiaciuto che abbia visto che abbiamo ancora questa casa e i campi. A lei non deve essere rimasto quasi più niente. Tacemmo. Qualche volta da bambino li portavo a casa sua al pomeriggio. Giocavate per lo più vicino alla vasca, oppure al gioco del giudice o qualcosa di simile. Naturalmente abbiamo parlato anche di questo. «Oh, ma lui era molto più allegro di te, senza nemmeno confronto. Si interruppe un momento a guardarmi. È anche più bello, mi sembra». E tutti e due, chissà perché, sorridemmo nello stesso identico modo. «Ma anche tu hai corso questo pericolo», aggiunse, esaminandomi tutto con una specie di apprezzione postuma. «Che malinconie adesso», dissi sorridendo. «Sono stato a Chetwitz e a Rizak». «Ah, brutto, brutto», sospirò lei lentamente, senza nemmeno aspettare la mia risposta. Il suo tono era un tempo solo distratto, malinconico e infantilmente indignato, e mi volse le spalle per guardare il giardino, la sepe, i campi, quei vecchi voghi d'un tempo. E io non riuscii bene a capire se volessi alludere a quel ragazzo che un giorno era stato più allegro di me e adesso aveva perso la vista, o a tutto quel mondo nuovo, scomposto e violento, che lei non poteva né giudicare né perdonare e neppure comprendere. E in cui adesso, da sola, vecchia esule, perfino un poco ridicola, doveva aspettare la sua sera. Sentì che a ogni modo dovevo dirle qualcosa. «Ah, via, via, perché brutto? Guarda, sono gli stessi luoghi di una volta. Lì seppellimmo il cane, lì mi nascondevo con Davide. Là andammo a ricevere gli ospiti l'ultimo giorno di un carnevale. C'è passata anche una guerra di mezzo, eppure non sono cambiati per niente». «Certo non loro, ma noi», commentò a bassa voce. «Ma questo non vuol dire proprio niente», tentai io, senza nemmeno sapere se in quel momento fossi sincero o mentissi, mentre lei mi prendeva a guardare con una certa grata e incoraggiante ironia. «Questo significa anche meno di niente. importante. Quello che veramente importa è che loro...» «Ah, non so, non è facile. Il babbo, ecco, saprebbe trovare le parole che occorrono». «Ah, lui sì, lui sì, ne convenne. Era inarrivabile in questo, tuo padre. Sapeva convincere chiunque di ogni cosa, tranne se stesso, però». Il ricordo di quell'abilità straordinaria la fece un poco sorridere. Fu però questione di un attimo. «Però, se avesse saputo trovarle anche questa volta, credo che non sarebbe nemmeno morto, ti pare?» «Lì per lì non trovai una risposta». «No, no, sei morto», ripete lei a bassa voce, vuol proprio dire che neanche lui, questa volta, sarebbe riuscito a trovare le parole che occorrono. «Nessuno riuscirebbe a trovarle, nessuno». Io mi avvicinai a lei e le posi le mani sulle spalle. «Adesso smetti di pensare, mamma. Spolveriamoci il cuore e non pensiamoci più», provai a dire. «Chiudi la finestra e vieni dentro. L'aria della sera ti fa male». «Bene o male, è l'unica aria che fa per me, ormai», scosse la testa mia madre, guardando la nebbia che saliva dai prati e le ombre viole dei colli all'intorno. Io non dissi parola. Il giorno era lì per morire. L'erbe dei fossi erano mosse dalla primaria di notte. I contadini erano spariti al crocicchio. È passato del tempo. Mio padre è morto. Giovanna è morta. Davide è, a modo suo, un felice ragazzo. Tutto questo è un po' ridicolo, no? Mio padre è morto. Mio padre è morto. Mio padre è morto. Grazie a tutti.